Si è costituito il Comitato 100 dalla Vittoria per le celebrazioni del centenario della vittoria in provincia di Imperia. Il comitato è composto da membri di associazioni d'arma e culturali che hanno a cuore la commemorazione dell'importante data che ricade nel 2018. Si darà particolare rilevanza ai caduti medagliati della nostra provincia. Il comitato opererà in stretta collaborazione con Comune di Sanremo, il Comando Base Logistica dell'Esercito, UNUCI, la provincia e la regione. Sono previste una serie di importanti manifestazioni a decorrere dal 6 ottobre per concludersi il 4 novembre. Il cognato conta sulla partecipazione ed aiuto di tutte le associazioni e cittadini di Sanremo. Il programma manifestazioni 100 anni della vittoria prevede il 6 ottobre alle ore 15 l'inaugurazione ed esposizioni presso il forte di Santa Tecla. Alle 16.30 presso il cimitero monumentale alla foce Ossario caduti cerimonia di commemorazione. Alle 21.30 al casino municipale di Sanremo la cerimonia di commemorazione dei medagliati, poi concerto con quattro fanfare e rievocazione storica. Il 7 ottobre in calendario c'è alle 9.30 inizio della sfilata a quattro fanfare militari in città. Dalle 11 alle 12 concerti nelle piazze cittadine. Dal 6 ottobre al 14 l'apertura esposizione permanente a Santa Tecla. Previste quindi conferenze, presentazioni, proiezioni di filmati. Il 3 novembre invece alle 15 l'inaugurazione ufficiale al monumento ai caduti con autorità civili, religiose e militari. Alle ore 16 la messa da requie cantata in commemorazione dei difunti. Infine per l'intero periodo in bandierata della città.